Pronto? Pronto, la signora Pizzo? Si? Signora, sono dalla ditta Clacker. Deve essere 8, possiamo venire signora? Lei quando stessa a casa? E' meglio... A casa? Si signora, per l'ordine che lei ha fatto. Quando possiamo scaricare signora? Ma che cosa? L'orca signora. L'orta? L'orca assassina signora. Quando possiamo scaricare? Lei ha preparato l'acquario, il mangime? Ma io non ho fatto nessuna cosa. Forse vostro figlio? No, no, sono qui, sono qui, sono qui, Pizzan. Ma l'ordine chi l'ha fatto qua? Io non lo so. Ma l'ordine che cosa? Che cosa è? E' l'orca signora, l'orca. L'orca? Eh. Sapete che cos'è signora? Ma non lo so proprio. Signora scusi, il camionista sta venendo adesso. Eh, non trova. Da di Hawaii sta venendo signora. Eh, il camionista viene, che sta scaricando, non ha fatto nessuna ordine. Eh, ma questo è un guai adesso signora. Eh, è un guai eh. Perché lei non... Ah, adesso sto malato, sto pure che la faccio. Eh, allora ci hanno fatto una scherza, c'è? Si, mi hanno fatto una scherza, non lo so. Signora comunque sta venendo verso l'ordine. Eh, poi non vengo, non trova nessuno perché i magiari che ho vedato. Eh, signora, l'animale muore poi. Eh, l'animale morisce che morì. Eh, ma state scherzando? Eh, ma state scherzando voi, io non tengo una giocattrice l'ordine. Se lo sapete che cos'è l'ordine? Ma io non so neanche che c'è l'acquario che resta l'animale che lei. La balena con il filo. La balena? Eh. L'acquario, 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 il mancime. Ma sentite mamma, i belli mammi, non so proprio niente. Ma a che ora è ora? Eh, le due. Le due. E poi le due la notte telefonate per dire che bene lo cammi. E non so proprio niente. Eh, che lo faccio signora, vuoi sapere? Qua è tutto pagato signora comunque. E' tutto pagato pure. Eh, che le ho fatto? Perché quello del camionista lascia la balena in mezzo a cosa, la coltiva e stavano. E qua è il problema, ma perché io non lo posso nemmeno avvisare. Eh, eh. Comunque posso passare al mio figlio. Sì, grazie. Pronto? Pronto. Ma chi è lei? Eh, Dittacrec. Lei chi è? Eh, sono il figlio. Eh, adesso ho un bordello qua perché il camionista sta arrivando e scarica. Io non lo posso avvisare che lei non ha ordinato niente perché qua è tutto pagato. Ricapite qual è il problema adesso? Ma che deve scaricare? I rasoli elettrici. Che cosa? I rasoli. I rasoli elettrici? Mi hai conosciuto? No, ma chi si? A Tolini. A Tolini. A Tolini. Chi Tolini? Tolini Scatti. Stai facendo? Tolini Scatti. Eh. E' certo Tolini Scatti? no com'è? anzi un pazzo, stai facendo? io non lo conosco io non lo conosco e io? avete visto che mi hai conosciuto? no stai pazzo, me hai conosciuto? no ma lei non lo conosco com'è? ma dove avviste? fuori barcavano, com'è la roba? ti ricordo? no ehh, Vietnam si no come vengo 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 no, no venga o vien, im just a vieno a little bit no ma io si mo vengo ma venga, mogę parlar vamo